Siamo qui a presentare il nuovo prodotto di Sony, si chiama TAP11, è un tablet PC completo, quindi non con Windows RT ma con Windows completo, in versione completa, dotato sia di tastiera, questa tastiera viene ricaricata in maniera automatica quando la si ripone come copertura del tablet, si ricarica in un'autonomia di circa due settimane. Insieme viene fornita anche la penna che viene molto bene per eventuali lavori di design o scrittura a mano libera. Come dicevo questo tablet PC è completo sia nelle interfacce, ha l'interfaccia per quanto riguarda l'ASD card, controllo di volume e anche una connessione USB 3.0 e HDMI. È un prodotto che vede diverse possibili configurazioni, questa che vediamo qui è un Core i5, esisterà anche con versione Pentium a partire da 899 e sarà disponibile sia in versione nera, presumibilmente con anche il modulo LTE, sia in versione bianca solo in modalità Wi-Fi. Con la penna inclusa del Viotap 11 è possibile scrivere e la penna riconosce anche il tipo di scrittura e quanto calco sullo schermo e in più viene dato in dotazione anche un supporto per alloggiare la penna in questo modo.